Per la sesta settimana consecutiva aumenta il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese anche se l'RT si mantiene di poco superiore ad uno. Sono molti focolai segnalati in diverse regioni italiane anche se sta diminuendo il numero di questi causati da rientri da aree turistiche. Aumenta purtroppo l'età alla diagnosi che ora è di circa 35 anni il che sta a significare un inizio di trasmissione intrafamiliare. Naturalmente per tutti questi motivi è necessario continuare a tenere comportamenti prudenti quali distanziamento sociale, quindi soprattutto evitare assembramenti, utilizzare le mascherine in luogo pubblico in particolare e naturalmente mantenere una sana ed accurata igiene delle mani.